Uriere! Uriere! Ima stubura buonoto che esci! Ecco, e datti qui ho notato a letto. Ameno Zume? Luciana? E quello lì? Chi sarebbe? Lui è Sebum, l'investigatore di cui ti ho fatto vedere la foto. Ti ricordi? Ah, Sebum. Il famosissimo investigatore, direi. E dimmi un po', che cos'è adesso? Il tuo fidanzatino? Non sono affari tuoi questi! Lui è un uomo molto potente, sai. Lui ti ferme... Bla, 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 non me ne frega niente! Non riavrete mai l'ordnozzo, è questo che vi interessa. Siete solo delle stupide sciacquette. Specialmente tu, Luciana. Mi chiedo come abbiano fatto a darti questo stash all'estero, in una delle più grandi aziende del Giappone. Stupida come sei? Non parla per te. Talmente stupida, da non capire, che adesso, venendo qui, mi toccherà anche ammazzarmi tutti e tre! Luciana! Doca! 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 No, non sta bene la mano, non fa niente. No, no, a me. Non puoi uccidere un riele usando una magia divina così forte. Sei troppo debole, così morirai anche tu. Dai gioco io, Luciana. Sei Ionara. Non si fa mai ti. No! Non ci fa mai. Non si fa mai. Che succede? Oddio. Che succede? No! 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 Ma troppo bello! E' giovane per morire! No! Non ci fa mai mai intiare. Non ci fa mai. Non ci fa mai. Noooooooooooo! Rizzata! Grazie. 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 Solo solo cose. Ci vogliono sabacciglia. Oretaccio. Ma te lo faremo. Grazie. 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 Kami Sama Gori Ezza Ma Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti